Molte grazie per quello che ci hai detto. Credo che sia stato molto importante, ma soprattutto ci ha permesso di mettere molto meglio a fuoco la questione dei beni comuni al plurale, connegati agli usi civici, lasciando però aperto il campo sul quale sicuramente il grande esperto di stasera è il dottor Giannozzo Pucci. Io mi limiterò, giusto per introdurlo, a citare due paginette, ma no, cioè non le leggo tutte e due, non vi preoccupate, qualche riga. Siamo a pagina 25 e 26 del suo libro La rigenerazione del bene comune. Secondo me fa capire subito che si tratta di un approccio novecentesco nel senso buono, cioè di un tentativo di conservare tutti gli aspetti positivi del secolo che abbiamo lasciato. Che cosa dice? Siamo alla fine di pagina 25 e nel suo libro si dice La digitalizzazione è contro il bene comune? Punto interrogativo. Ed è scritto Il diritto all'analfabetismo esiste perché tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Quindi nomina direttamente l'articolo 3 della Costituzione che secondo me è calpestato in modi impressionanti negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi trent'anni, come dicevo prima. Questo diritto, attenzione all'ultima parte, qua siamo a pagina 26, che corrisponde al diritto ai cinque sensi, quindi un'analfabeta tuttavia ha il diritto ai cinque sensi, a usare i cinque sensi. E di conseguenza all'obbligo da parte delle istituzioni di servire gli analfabeti o gli alfabeti che non possiedono il linguaggio burocratico, tecnologico e digitalizzato. Ecco, pensate un po'. Ecco, questo per dire che si tratta sicuramente di un libro utopistico, tra virgolette, ma ne abbiamo un grande bisogno. Prego, dottor Pucci. Ecco, vi ringrazio di avermi invitato. Mi sentite? Sì. Sì, io sì. Spero anche gli altri. Allora, perché ho usato la parola il bene comune? Perché non l'ho usata in senso propriamente e immediatamente giuridico, ma in un senso pre-giuridico. Cioè, prendo atto, preso atto del fatto che la privatizzazione è, ha proceduto in maniera galoppante al di là delle proprietà private. Perché quando si parla di inquinamento dell'acqua, inquinamento della terra con i glifosate o comunque con i diserbanti o cose che poi finisce nelle falde, eccetera, lì si tratta di una privatizzazione allargata, cioè che per interessi privati, che si combinano soprattutto quelli di chi produce e vende questo prodotto, convince a comprarlo e poi chi se ne fa dipendente, e questo privato che segue questo interesse diffonde i danni di questo a un bene comune. Io ho inteso la parola bene comune come l'origine dei beni comuni. Io mi trovo in una società in cui si è perso proprio l'ABC di che cos'è il bene comune. Quindi poi se si va nei dettagli, benissimo, il bene comune si diffonde e si caratterizza in tanti beni comuni. Però ho voluto risalire a questo perché gli usi civici si basavano sull'uso, cioè su una società che fondava la sua economia, cioè l'economia, era nell'economia, che si fondava sui valori d'uso, cioè l'uso della natura per la propria sussistenza. A un certo punto queste popolazioni, delle frazioni soprattutto, perché gli usi civici si caratterizzavano, si ordinavano per frazioni, hanno cominciato ad abbandonare quel modo di vivere, attratti da una sostituzione dell'economia, che era in gran parte, diciamo così, di sussistenza anche nelle città in qualche maniera, perché le case erano luoghi di produzione in qualche modo. Spesso si comprava la farina, si compravano le materie prime per fare i propri prodotti alimentari in casa. E poi l'attenzione che si aveva per l'economia, per economizzare, per stare dentro i limiti della natura. Una volta che l'economia viene soppiantata da quello che è oggi la società dei consumi, quindi da un'industrializzazione che inizia con la prima guerra mondiale, in cui per la prima volta nella guerra si usa la catena di montaggio, poi dopo, durante la pace, continua, e quindi viene la crisi del 29 perché mancavano gli acquirenti, e poi alla fine viene risolta iniziando la guerra nella pace, la guerra che si è, diciamo, denominata consumismo, cioè società dei consumi. Ecco, questa società dei consumi... C'era qualcuno che diceva qualcosa? Non sento bene. Attenzione a togliere l'audio dei microfoni. Va bene. Attivate l'audio, per favore. Questa società dei consumi che soppianta l'economia con una specie di, come dire, di, cioè tutto si, viene diretto verso il profitto usuraio, in cui l'usura è l'usura della terra, cioè delle risorse, la terra diventa miniera, poi viene trasformata attraverso l'industria e vengono prodotti, dei prodotti per il commercio sempre più allargato, che più si allarga la dimensione, quindi diventa globale la dimensione dei mercati, e più si riducono, diciamo, le varietà dei prodotti. Tutto questo cambia profondamente la nostra vita sociale. Prima la presenza della natura come uso era abbastanza presente anche nella cultura comune. Adesso l'economia dipende tutta dal lavoro salariato, dal salario, dal danaro. Ecco, è soltanto dal danaro. Anche i comuni dipendono da questo. Nei comuni è più facile, non so, dare delle... Non so, dare l'in...